Buongiorno a tutti, l'argomento di oggi sono i numeri complessi. Perché i numeri complessi in elettrotecnica? Perché noi abbiamo il problema in corrente alternata di dover rappresentare delle sinusoidi che variano in funzione del tempo. Abbiamo visto in precedenti lezioni, anche su qualche video, che i segnali sinusoidali possono essere visti come l'immagine di fasori, cioè vettori rotanti, che noi studiamo come vettori fermi nel tempo, che quindi studiamo con numeri complessi. Quindi, argomento fondamentale per studiare la corrente alternata, chi non sapesse nulla o poco sui segnali sinusoidali, sui fasori, eccetera, è pregato di andare, come al solito, a rivedere questi prerequisiti. Vediamo un pochino di teoria, ma non troppa, sui numeri complessi. Un minimo sindacale è che il numero complesso nasce dalla teoria del numero immaginario. Noi sappiamo che l'equazione x quadro più non ha soluzione nel campo dei numeri reali, ma se ipotizziamo che ci sia un numero che equivale alla radice quadrata di meno uno, otteniamo quella che si chiama l'unità immaginaria. Attenzione! Noi, di solito, usiamo la J perché nell'elettrotenico usare la I come si fa nei corsi di matematica potrebbe crearci un po' di confusione perché noi con I indichiamo l'espressione della corrente istantanea. Ora, se noi partiamo da questo presupposto, è evidente che J quadro vale meno uno, che J cubo vale meno J, si può vedere anche che uno su J è uguale a meno J, eccetera, eccetera. Questo permette di fare dei calcoli che sono propedeutici, non tanto a lavorare con numeri complessi o immaginari così casualmente, ma per usarli nel calcolo delle grandezze sinusoidali. Allora, due basi di teorie finiscono dicendo che noi abbiamo l'insieme dei numeri complessi che tiene conto sia dei numeri reali che dei numeri immaginari, che insieme realizzano appunto un numero complesso. Questa è la forma classica o forma cartesiana in cui questo numero complesso ha una parte reale di 3 e una parte immaginaria di J4. Il numero complesso può essere visto come l'immagine di un punto nel piano di Gauss. Il piano di Gauss è un piano in cui sulla scissa mettiamo l'insieme dei numeri reali e sull'asse verticale, sulla ordinata, mettiamo l'insieme dei numeri immaginari. Quindi, ad esempio, il numero complesso 3 più J2 ha un'immagine nel piano di Gauss che tra l'altro individua anche un vettore e qua si capisce un po' dove andremo a parare perché attraverso il numero complesso suggeriamo i vettori che sono l'immagine delle sinusoidi. Questo è un numero che sta nel primo quadrante, parte reale 3 e parte immaginaria 2. Ovviamente posso avere un gran numero di... qualsiasi numero complesso può essere rappresentato nei quattro quadranti del piano di Gauss. Ad esempio, qua abbiamo 2 più J2. 3 più J4 stanno tutti e due nel primo quadrante perché parte reale e parte immaginaria sono positiva ma ovviamente i numeri complessi che rappresentano le sinusoidi possono stare anche, ad esempio, nel quarto quadrante con parte reale positiva e parte immaginaria negativa. 2 meno J1. Oppure, ad esempio, nel secondo quadrante, in questo caso ho invertito i segni nel numero complesso precedente vediamo che meno 2 più J1 è esattamente in quella che si chiama opposizione di fase perché le due sinusoidi, si potrebbe vedere che le due sinusoidi che sono rappresentate da quei numeri complessi risulteranno in opposizione di fase e sono due vettori sfasati fra loro di 180 gradi. Attenzione che un punto nel piano può essere rappresentato anche in funzione della distanza dall'origine e dalla sua inclinazione della direzione della congiungente rispetto all'asse reale considerata positiva se vista in senso anti-orario partendo dall'asse reale. E' abbastanza facile calcolare la distanza col teorema di Pitagora e l'angolo si ricava con le regole di trigonometria. Quindi questo numero complesso 3 più J4 si può anche vedere come un numero complesso Z che ha modulo ρ e argomento, cioè angolo θ in questo caso 5 con angolo di 53. Il segno grafico, vedete, indica proprio un'inclinazione ed è un modo compatto e veloce di indicare direzione e modulo e quindi intensità di questo vettore. Allora, siccome dobbiamo un po' saper trasformare sempre le parti sui numeri complessi dalla forma polare alla forma algebrica e viceversa conviene strappolare dal piano di Gauss le informazioni che ci servono che sono tutte contenute in questo triangolino che strappoliamo, vedete qui in arancione è un triangolo rettangolo con cateti parte reale e parte immaginaria e con ipotenusa il modulo. Quindi possiamo, conoscendo questi parametri passare dalla rappresentazione in forma algebrica o cartesiana alla rappresentazione in forma polare o esponenziale alcuni test li chiamo anche così. Quindi bisogna sapere per forza queste quattro regolette che dovrebbero essere ormai patrimonio condiviso di chi fa elettrotecnica al quarto anno di superiore quindi, vabbè, teorema di Pitagora le relazioni trigonometriche sulla tangente come rapporto fra cateto verticale e orizzontale e poi il calcolo dei cateti orizzontali e verticali che sono poi parte reale e parte immaginaria e con le definizioni di seno e coseno queste cose bisogna saperle per forza comeppure sarebbe buona norma avere anche un po' di memoria dei seni coseno e tangenti degli angoli notevoli 0, 30, 45, 60 e 90 questa è buona regola saperle anche per avere un po' il controllo dei calcoli che si fanno poi ovviamente con le calcolatrici vediamo i numeri che abbiamo messo nelle slide precedenti di riportarli dalla forma algebrica alla forma polare vedete, primo numero 2 più J2 è sostanzialmente il modulo e la diagonale di un quadrato quindi radical 2 per 2 con angolo di 45 perché essendo uguali parte reale e parte immaginaria il loro rapporto è unitario l'arco tangente di 1 è 45 gradi stessi calcoli per il 3 più J4 che vale 5 con angolo di 53 come abbiamo già visto il numero con parte immaginaria e negativa darò ovviamente un argomento cioè un angolo negativo perché se faccio l'arco tangente di meno 1 fratto 2 ottengo meno 30 attenzione a una cosa il numero meno 2 più J1 è evidente che avrà un argomento di 150 nel senso che il vettore avrà modulo radice di 5 ma inclinato di 150 gradi rispetto all'asse reale andando in senso anti-orario attenzione che se voi fate i calcoli con la calcolatrice vi accorgete che se voi fate arco tangente parliamo del quarto numero di 1 fratto meno 2 ottenete esattamente meno 30 ed è evidente che il risultato è sbagliato perché? perché la calcolatrice non sa distinguere fra il rapporto di 1 e meno 2 e di meno 2 su 1 e quindi cosa succede? succede che sostanzialmente lavora solo nel semipiano positivo ok? del piano reale del semipiano reale positivo quindi la regoletta per non fare errori è che quando vedete che un numero complesso a parte reale negativa al risultato che esce dalla vostra calcolatrice sommate 180 gradi ed evitate problemi poi buona norma è sempre fare un disegnino che ci si rende conto che se meno 2 più j1 è la parte, la rappresentazione algebrica del numero questo non può avere angolo di sfasamento meno 30 perché sta necessariamente nel secondo quadrante però attenti questa è una causa di errore sovente causa di errore poi bisogna capire come si fanno le operazioni con i numeri complessi allora si possono fare in forma algebrica e questa è l'operazione base somma differenza prendo due numeri in forma complessa applico sostanzialmente la regola della somma dei binomi nel senso sommo fra loro le parti reali e le parti immaginari ovviamente le somme sono algebriche ad esempio 3 più j2 più 4 meno j3 fa 7 meno j1 perché è utile questo? perché quelle potrebbero essere ad esempio i numeri complessi che rappresentano due correnti che si sommano in un nodo e da qui deriva poi una rappresentazione simbolica o vettoriale di questo tipo dove vediamo anche il vettore somma che sta nel quarto quadrante perché è parte immaginaria negativa prodotto e divisione sono già un po' più complicate per il prodotto si può applicare questa regoletta sostanzialmente il prodotto misto quindi è come fare il prodotto di due binomi però attenzione quando nel quarto termine compare j quadro attenzione che j quadro è uguale a meno 1 quindi questo termine meno j quadro diventa in realtà meno 1 col meno davanti diventa più quindi questo termine diventa un termine reale uguale a 6 6 più 12 che fa 18 e questo è il prodotto fatto in forma algebrica in forma algebrica si può fare anche la divisione però bisogna stare attenti c'è un'operazione un po' particolare bisogna razionalizzare la divisione che vuol dire moltiplicare numeratore denominatore per il complesso coniugato del denominatore il complesso coniugato è il denominatore cui cambio di segno solo alla parte immaginaria perché? perché così facendo elimino la parte complessa del denominatore perché? perché questo è un prodotto notevole quindi è il prodotto di una somma per una differenza che diventa la differenza fra quadrati ma siccome il secondo termine è immaginario e siccome meno j quadro uguale a più 1 diventa c quadro più d quadro però c'è un modo più semplice di fare i prodotti e le divisioni è sfruttare anche qua un po' di teoria che è la formula di Eulero la formula di Eulero ci dice che e elevato alla j teta è uguale cos teta più j sen teta quindi sostanzialmente matematicamente la forma polare coincide con un esponenziale con un esponente immaginario perché ad esempio z con inteso in forma polare esponenziale come rho con angolo di teta sarebbe formalmente matematicamente da intendersi come rho per E elevato la j teta però la notazione che usiamo noi è più immediatamente riconoscibile più semplice anche tipograficamente quindi si usa di più questa però sapendo che a monte di questo c'è la formula di Eulero noi sappiamo che questa espressione diventa anche uguale a rho per cos teta più j sen teta che ci riporta subito poi anche alla conversione polare cartesiana perché è utile questa cosa perché se mi rendo conto che in realtà la forma esponenziale slash polare resegue le regole dei prodotti e le divisioni fra esponenti io posso fare i prodotti e le divisioni in un modo molto molto semplice ad esempio il prodotto prodotto fra esponenziali si fa facendo il prodotto prodotto fra esponenziali vuol dire si fa con la stessa base in questo caso E per che usa come esponente la somma algebrica degli esponenti quindi se io sto facendo ad esempio rho1 con angolo di teta per rho2 con angolo di teta2 il risultato sarà rho1 per rho2 prodotto in moduli con argomento la somma algebrica degli esponenti quindi ad esempio 5 con angolo di 30 per 2 con angolo di 60 fa 10 con angolo di 90 molto semplice così come è molto semplice anche fare la divisione divisione fra esponenti si fa la differenza fra gli argomenti quindi riporto la forma esponenziale alla forma polare e quindi 10 con angolo di 30 fratto 2 con angolo di 60 fa 5 con angolo di meno 30 cioè 30 meno 60 questo è molto molto utile per fare i conti vediamo qualche esempio allora prima è una somma e due numeri soltanto che il primo è in forma polare quindi lo devo trasformare in forma algebrica e poi faccio semplicemente la somma quindi ricordiamoci che se la somma va fatta necessariamente in forma algebrica se non uso strumenti di calcolo particolari poi 2 più j2 fratto j vedete faccio la razionalizzazione serve semplicemente in questo caso moltiplicare numeratore denominatore per meno j e tutto si semplifica quindi è semplice un prodotto in forma polare poi sommato a un numero reale uguale a 20 quindi faccio il primo prodotto trasformo 20 con angolo di 90 in forma algebrica diventa j20 perché 20 con angolo di 90 è uguale a j20 e poi metto il risultato in forma polare un'altra divisione trasformo il numeratore in forma polare poi faccio la divisione ok questo è tutto fate un po' di esercizi perché questo è assolutamente importante per studiare la corrente alternata ciao a tutti e buon lavoro